Oggi facciamo una cosa semplice che è la cipolla a fior di loto, che può servire per decorazione a tantissime ricette o può anche essere mangiata così. È veloce, sana, notente e di grande effetto. Intanto la mica è sotto che sta mangiando. Serve una cipolla rossa, l'aceto balsamico, dell'olio, sale e pepe, un pirottino di alluminio e la carta alluminio. Su questo lato praticamente non la taglio se è piatta, di qua invece la taglio un pochino di più. Così, quattro tagli, a stella praticamente. Uno, due, tre e quattro. La metto in un pirottino, gli metto l'olio, gli aggiungo l'aceto balsamico. Lo ricopro con l'alluminio. Forno a 200 gradi. 20 minuti, coperto e poi vediamo come metto. Lo apriamo togliendo l'alluminio. Sta sprivolando in una maniera incredibile. Guarda, vedi. Ecco, faccio il balsamico. Ecco, faccio il balsamico. Ecco. Ecco.